e le quote contro partiti dall'interno love and dance che ha all'esterno baciami ancora allargo la mossa decisa di church chase all'interno si è sistemato occhi belli a creta con church chase che è il leader della gara nei confronti di occhi belli a creta love and dance baciami ancora quindi quickly sally che ha all'esterno perfect drive in coda eccellente idea complemento della prima piegata i cavalli affrontano adesso l'inizio del rettilineo opposto con church chase leader della gara nei confronti di occhi belli a creta in terza posizione lungo lo steccato galoppa love and dance la mossa a largo di perfect drive che va in aggiramento su i primi con occhi belli a creta che va però in anticipo su perfect drive e tre cavalli quindi vanno in diagonale con church chase in vantaggio al suo esterno galoppa occhi belli a creta in terza corsia costante perfect drive per le linee interne si è sistemato love and dance che ha all'esterno il numero tre di baciami ancora in mezzo alla pista la mossa anche di quickly i sally in coda a tutti sempre eccellente idea si attacca alla piegata conclusiva con tre cavalli su di una linea church chase dall'interno perfect drive quickly i sally poi love and dance in seconda linea avvicinato all'esterno da baciami ancora con occhi belli a creta un po' in fase calante quando si entra in addirittura di arrivo church chase ancora in vantaggio nei confronti di perfect drive a largo quickly i sally quindi la mossa di eccellente idea che avanza in maniera decisa a largo di tutti lo scatto di eccellente idea che sta passando in vantaggio nei confronti di quickly i sally poi all'esterno la rimonta anche di baciami ancora eccellente idea ha preso vantaggio su quickly i sally allargò anche eccellente idea con eccellente idea che nel finale si distacca facile vincitrice nei confronti di quickly i sally poi occhi belli a creta a precedere baciami ancora successo netto all'epilogo di eccellente idea numero 5 dello schieramento mario sanna in sella i colori della scuderia cavalli da corsa Giannotti il training di Pierluigi Giannotti eccellente idea che paga 7,27 al totalizzatore nazionale rivediamo lo slow nei monitor dell'ippodromo il facile assunto di eccellente idea numero 5 dello schieramento che nel finale si è distaccata in maniera netta e decisa all'epilogo vince facile quindi l'allieva di Pierluigi Giannotti mentre per il secondo posto qui Cleisalli tiene a bada il ritorno di occhi belli a creta quindi 5,4,7 l'ordine di arrivo numerico ed ufficioso della settima corsa di Firenze è tutto quindi dal visarno Fabrizio Terrenini augura a tutti una buona serata e vi dà appuntamento a domenica 29 aprile per una nuova riunione di corsi Grazie